Sarebbero un 28enne di Rosignano Marittimo e un 30enne di Cecina, i broker del traffico di droga tra le province di Pisa e di Livorno, individuati. Individuati dai carabinieri labronici che hanno ampliato le investigazioni fino ai quartieri romani di Torbella Monaca e San Basilio, così da portare all'esecuzione di 23 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Livorno, 6 arresti e denuncia a vario titolo per illecito di sostanze stupefacenti un provvedimento, emesso a conclusione di un'articolata indagine avviata nel gennaio del 2019, quando dopo un sequestro di un quantitativo di marijuana nell'operazione Nicole Crush, mise in evidenza che i due livornesi avrebbero commercializzato importanti quantitativi a circa una ventina di pusher, tra Lazio e Toscana, balze logistica, la mazzanta di Vada, i due soggetti occultavano la droga tagliandola e confezolandola in un ricovero di fortuna.